Sessa in gioco, Pedigranata, 42, 30 secondi, si continua ad attaccare, c'è un lancio su Gattuso che finisce a terra in aria, eh no, arbitro, è arbitro, tutto regolare dice Cesari, prova il contropiede del Vicenza, anzi prova il lancio lungo, Tisci perché c'era Balli fuori dai pali, Balli blocca senza problemi, avanza, tutti avanti, il pareggio non serve, Balli, rilancio lungo, verso Giampaolo che lotta con Marco Aurelio, lo ferma Marco Aurelio, poi dalla parte opposta c'è pronto Bolic, ecco Fresi, Ametrano, il cross nell'area di rigore, Giampaolo anticipato ad un soffio, poi prova a cacciare ancora il pallone, Giampaolo vi riesce, tocca per Tedeschi in area di rigore, cross ancora in mezzo, Vannucchi! E' gol! E' gol! E' gol del balcaccio amici sportivi, esplode la Reghi, esplode la Reghi con un grande gol, Tedeschi in mezzo per Vannucchi, esce il 2-1 della Salernitana, tutti in piedi Vanni, tutti in piedi a festeggiare il gol della Salernitana, al quarantatresimo minuto, è 2-1, è 2-1 per la Salernitana, Vannucchi di testa schiacciato imparabilmente da pochi passi, è il 2-1 per la Salernitana, che dunque si rimette in corsa, 2-1 amici sportivi, possiamo ancora farcela, 44 i minuti, Vannucchi a vuoi amore!